E' l'Italia che cambia, è l'Italia che pedala Sui sentieri differenti, ecologici e coerenti Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai Quest'Italia che cambia, siamo noi Parlando con gli anziani, mi ha detto questa signora Vieni che ti faceva vedere un mobile antico di mia nonna E aprendo il cassetto, ancora era impregnato di profumo di zafferano Lo zafferano in Sardegna è stato importato dai fenici Nello stagno di girasole risulta esserci ancora le rovine dell'antico porto Era un antico porto fenicio Quindi vuoi che questa spezia non sia passata anche qua da noi Semplicemente non si è portata avanti questa tradizione Non vuol dire che noi non possiamo farlo E non vuol dire che noi non possiamo creare uno zafferano di alta qualità L'idea è nata dalla voglia di cambiare qualcosa nel posto dove viviamo Ci vedevamo, diciamo, la terra erodersi sotto i piedi Nel senso che i nostri amici, la maggior parte, sono dovuti emigrare Le difficoltà economiche si sentivano sempre forti E quindi c'era sempre il solito discorso Incominciamo a costruire qualcosa perché la situazione cambia Quindi abbiamo cominciato a studiare, a informarci Finché qualche anno fa siamo imbattuti sullo zafferano Io inizialmente ero un po' scettico su questo progetto Anche per via del tipo di terreno che abbiamo Poi invece ho raccolto un po' di informazioni in giro Sono andato a visitare altri impianti di zafferano Anche fuori dalla Sardegna Uno mi ha colpito in particolare Era una zona molto molto umida Sono andato lì mentre era in piena fioritura E proprio questa azienda mi ha spiegato bene Loro conoscevano bene questa zona Viene incoraggiato dicendomi ci riusciamo noi Da voi sarà molto meglio La terra si può sempre lavorare, migliorare Perché tradizionalmente lo zafferano in Oliastra Viene utilizzato sì ma Non abbastanza A memoria nostra non è esistita coltivazione alcuna Abbiamo riscontrato delle cose molto positive Anche da parte dell'altra gente Da parte della gente che ci ha seguito Che ci ha incoraggiato Nel momento che siamo appunto partiti con l'idea di coltivare lo zafferano Si sono presentate anche le opportunità La prima opportunità appunto è stata quella di questo terreno Che appunto il padrone ci ha appunto detto Iniziate ragazzi voglio sposare il vostro progetto Il progetto nel nostro paese è di creare una sorta di fattoria didattica Che possa convolgere le persone del posto in modo compartecipativo Per poter fare orti condivisi probabilmente con l'agricoltura sinergica Ma anche dove fare eventi culturali come presentazioni di libri La nostra idea è quella di coltivare lo zafferano e qualche gran antico, qualche legume Quindi produrre questi alimenti per poter autofinanziarci E creare il nostro parco dove appunto fare fattoria didattica E magari lavorare anche con quello in modo che il tutto si sostenga La cosa che ci ha fatto piacere è che siamo stati contattati da chi magari ha dei terreni incolti Per coltivare, che ne so, del grano, se non per capelli, farro Chiedendo in cambio parte del raccolto Quello che vogliamo portare noi è l'idea di piccole coltivazioni però alta la qualità Cioè nel discorso che ognuno di noi, soprattutto in Sardegna Perché comunque sia la maggior parte hanno anche solo un piccolo appezzamento Comunque tutti ce l'hanno Ogni famiglia può crearsi la sua piccola realtà Noi potremmo diventare nel parco che andremo a costruire il punto d'appoggio Dove potrebbe esserci un conferimento O magari nel tempo anche creare delle situazioni dove si possono cominciare a fare trasformazioni Che valorizzano il prodotto Un progetto dove si torna un po' sulle origini Nel senso che andiamo a cercare questi grani antichi, cerchiamo di riprodurre E quindi alla fine la cosa bella è proprio far stare bene anche le altre persone Nel senso, come facevano un tempo, li mangiare bene È una scossa che bisogna dare i giovani Nel senso, i ragazzi si devono svegliare Hanno bisogno di ristaccarsi prima dalle famiglie Darsi un loro riscatto, un obiettivo L'Italia che cambia a me mi fa pensare Il fatto che noi giovani, molti, molti giovani in gamba preparati Non riescono a sentirsi appagati Devi partire e quando torni, torni deluso perché dici non è cambiato niente Io dico anche, beh non è cambiato niente perché se tutti vanno via non cercano di cambiare qualcosa Resta sempre così L'Italia che cambia è chi si rimbocca le maniche e fa sì che le cose cambino Quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai Quest'Italia che cambia siamo noi